Sono qui da Ascension Island per accompagnare due ragazzi da Kuwait, asceso in un luogo speciale nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Sono qui da Ascension Island per l'Oceano Atlantico. Sono qui da Ascension Island per l'Oceano Atlantico. Sono qui da Ascension Island per la Renaissance. Sono qui da Ascension Island per l'Oceano Atlantico. Stupid American Trash I've got this planet in my hands I'll try to save it if I can I'm satisfied with myself, don't care for anyone else I'm so united when I stand I get my facts from the TV Believe in everything I read It's such an ignorant bliss When the whole fucking world wants to be like me Cause I I'm just American Stupid American Trash La pesca nel blu è un tipo di pesca che viene effettuata lontano dalla costa Prevalentemente su alti fondali Normalmente si scende dalla barca e ci si lascia trasportare dalla corrente Per far sì che il pesce entri nel nostro campo visivo però Utilizziamo dei richiami come dei flasher o la posturazione I'm shutting down The people are so worn out Wake up The dream is over Wake up The dream is over Because I've Wake up The dream is over I'm just American 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 Woooo That's not a big one eh I'm just American I'm just American Ok, oggi è il nostro day off e in due minuti dalle rocce con una cazzolicana da pesca abbiamo tirato fuori questo Quindi adesso lo mettiamo sulla griglia direttamente Una delle robe più impressionanti qua ad Ascension è che si dorme a 100 metri da una spiaggia dove tutti i giorni centinaia di sartalubie giganti arrivano qua per deporre le loro uova E i buchi che vedete dietro di me sono appunto creati da loro Grazie a tutti Grazie a tutti